Una corsa in solitaria in vista delle prossime elezioni regionali, come dopo il voto in Umbria, ha annunciato Luigi Di Maio. Andrea Bertanni, capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, a Roma ha incontrato il leader politico e i nostri microfoni, ha spiegato le ragioni di questa decisione. La posizione prevalente, pur all'interno di varie considerazioni, è quella che il Movimento 5 Stelle debba correre da solo, anche perché molti attivisti, anche qui con posizioni diverse, però vedono con la fatica un accordo con il PD in regione. Quindi il Movimento 5 Stelle propone però la sua proposta, i suoi temi, l'ambiente, l'acqua e i rifiuti. Per costruire le liste inizieranno gli incontri nei territori. Sono dei miei territori per capire uno insieme come vogliamo costruire le liste e scegliere il candidato presidente, tenendo conto che vogliamo e ci piacerebbe coinvolgere il mondo civico. Che profilo dovrà avere un candidato che potrebbe anche rappresentarvi? Sicuramente un candidato che ha una visione di futuro, che è radicato nel nostro programma e in quello che noi pensiamo di qui al 2030, perché una visione di futuro non può essere una legislatura, una persona che sia riconosciuta anche all'interno della società civile. Oppure anche qualcuno che viene invece dall'attivismo del Movimento 5 Stelle e che si è mosso in questi anni, può essere, la scelta va fatta su Rousseau e quindi gli attivisti valuteranno il profilo migliore. Prima di domenica il governatore Bonaccini aveva lasciato aperta la porta al Movimento 5 Stelle per cercare un dialogo su singoli temi, proposte che non sarebbero a detta libertani mai arrivate. Io questo dialogo ancora non l'ho visto, nel senso che come dicevo prima, le proposte ancora sul tavolo, io non ne vedo di proposte innovative per il futuro. Noi le portiamo avanti e questo è quello che conta. Capitolo Imola, una situazione complicata, la definita il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Anche il tempismo di queste dimissioni qualche dubbio lo suscitano, diciamo perché appena un minuto dopo staccata la spina, la Lega con Morrone e poi con Salvini sul Nazionale si sono appropriati di questa, fra virgolette, loro vittoria, quindi può darsi che qualche contatto forse ci fosse anche prima. È ovvio che era una situazione complicata perché le visioni all'interno della maggioranza erano diverse, ma forse anche la sindaca non credeva più nel progetto del Movimento 5 Stelle.